Buonasera, ben trovati, una nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di Telesirio L'Aquila dedicato agli approfondimenti delle notizie più importanti della settimana, ma non solo. Il nostro gradito ospite è quest'oggi Quirino Crosta, che è segretario del circolo del Partito Democratico di Sassa. Buonasera, grazie di essere venuto. Parleremo con lui di tante iniziative che il circolo e anche un'associazione, come vedremo, fa sul territorio. Io partirei però da una bella iniziativa editoriale, che è il Pettirosso, direi anche abbastanza innovativa. Questo praticamente è un giornalino, possiamo definirlo così, che il circolo democratico di Sassa fa a proprie spese. Quindi parliamo un attimo di com'è nata quest'idea, che cosa si scrive sul Pettirosso e poi c'è anche la bella novità, che avete finalmente una sede, quindi ci sarà anche un punto d'incontro poi con il cittadino e per chiunque volesse partecipare alle vostre iniziative. Ciao Daniela, grazie innanzitutto dell'opportunità che ci date, perché è importante anche per noi, in una piccola realtà, per un segretario di campagna quale sono io, avere qualche sbocco sulle tv locali. Il Pettirosso nasce come un'iniziativa del nostro circolo, perché? Perché nel nostro documento programmatico al primo punto abbiamo posto la ricostruzione sociale e la ricostruzione del contatto col cittadino e quindi siamo partiti dalle basi e allora l'idea di realizzare un giornalino ci ha subito ispirato. Il nome del Pettirosso ci è piaciuto perché il Pettirosso è un uccellino piccolo ma estremamente combattivo e la parte più bella è che nelle freddi notte, negli inverni più freddi, smette di essere un individuo, un uccellino solitario per stringersi in gruppo e riscaldarsi a vicenda e questa immagine è quella che noi come circolo abbiamo voluto dare tanto che più che parlare di circolo, quindi una figura, un'organizzazione chiusa, vogliamo tornare a parlare di sezione quindi un'organizzazione che è partita dal basso in questi ultimi mesi, aperta e permeabile per tutto il nostro territorio.